Ciao, siamo online o in linea anche. Scusate gli occhiali, ma è molto presto di mattina perché poi le ragazze devono andare al montaggio, eccetera. Sabrina Vicari, Federica Aloisio, il quinto selfie stick, ne manca ancora uno. Stasera in scena con EOICA, direttamente da Palermo. Io vi chiederei brevemente, una realtà molto giovane, ma come vi siete incontrate perché avete deciso di intraprendere un percorso insieme. Sì, parlo io, parlo io. Allora, ci siamo incontrate ovviamente a Palermo e dopo percorsi differenti io ho lavorato all'estero, Fede in Italia, anche lei ha girato un po' per tutto. E poi ci siamo incontrate a Palermo con la compagnia di Giovanna Velardi e con delle produzioni di Emma Dante. Ah, ok, perfetto. Sì, abbiamo pensato di realizzare un nostro progetto che è il primo progetto. Questo è il primo progetto. Il primo progetto, sì. E quindi dal greco EOICA, ma non so un granché, vi lasceremo. Tanto stanno passando qui, ma non ci hanno noia. Sì, EOICA appunto è un progetto che nasce quest'anno, a marzo del 2017. Però avete già fatto delle puntate significative. Sì, ci sono state diverse tappe di residenze che sono state fondamentali, una alla Mamma Umbria di Spoleto, un'altra in Sardegna grazie a De Bandi. Bello è la Mamma Umbria, ci ho dormito anch'io. Bellissimo. Aspita, fantastica. Bellissimo, bellissimo. Proprio ci siamo trovate molto bene. È appunto un progetto che è basato sull'alterazione della visione dello spettatore. Quindi cerchiamo con una serie di camuffamenti scenici, grazie anche a dei costumi realizzati a mano da Sabrina e anche a una ricerca musicale che va sempre verso lo sfaldamento del tessuto musicale o comunque verso una distorsione, così come anche la ricerca delle luci. Però non vogliamo svelarvi troppo. Non troppo, non troppo. Io, no, se ti raggiunge qualcosa? No, no, vai. Altrimenti la chiudo, vi ringrazio, merda per stasera, il video sarà online. E a presto. Merda. Ciao. Ciao.